Ciao a tutti, sono Danilo per PokerStrategy.com ed in questa seconda parte del video andremo ad analizzare le fasi centrali del torneo mentre nella prima parte abbiamo visto un gioco con degli stack abbastanza deep in questo secondo video andremo a vedere come giocare quando il nostro stack varierà tra i 20 e i 40 big blinds spero che anche questo video vi piaccia e per qualsiasi domanda e commento aprirò come al solito un thread di feedback sul forum quando gli stack al tavolo diventano più corti dobbiamo fare attenzione al fatto che le mani speculative perdono il loro valore visto che non avremo degli stack sufficientemente deep per giocare profittevolmente i progetti post flop lo stesso discorso vale anche per le pocket pairs in quanto dobbiamo prestare attenzione al rapporto che c'è tra lo stack effettivo che possiamo vincere post flop e l'entità del race pre flop in base a questo dobbiamo valutare se abbiamo le giuste odds per giocare in set mining quello che diventa più importante in questa fase del torneo è iniziare ad aprire i range di steal e di risteal ovviamente adattandoci ai giocatori che abbiamo davanti una cosa importante sono appunto anche gli stack degli avversari ad esempio in questo caso vediamo che sui bui ci sono giocatori che hanno 16, 17, 18 big blind e che a loro volta potrebbero essere molto aggressivi con i race steal nei nostri confronti quindi quello che dobbiamo fare è adattarci a loro se vediamo che ci consentono di rubare i bui possiamo continuare a farlo con un range abbastanza largo se invece anche loro iniziano ad attaccarci dovremo iniziare ad aprire solo mani con cui siamo disposti a chiamare un loro eventuale push ok iniziamo qui K4 è un fold ovviamente qui abbiamo un po' di mani spazzatura anche qui 3, 2, donna jack qui c'è c'è molta action prima di noi e quindi possiamo foldare ok KK finalmente è una mano molto buona apriamo però foldano tutti qui ass 5 suite ed abbiamo una mano particolare visto che questo giocatore è la prima volta che apre da small blind fa un mini race io qui con ass 5 suite ed avendo il vantaggio della posizione post flop decido di flattare flop è molto dry quindi è buono per una continuation bet però vediamo che l'avversario decide di cercare e qui io penso che possa avere ho una mano che ha mancato il flop totalmente che quindi decide di check foldare oppure una mano che ha che ha poca shadow on valve come ad esempio un 9 o mani come 10-10 jack jack donna donna anche che hanno paura del K ascese che quindi decidono di mettersi in check call ovviamente a volte potrebbe anche avere un K con kicker basso quindi quello che cerco di fare è puntare in bluff perché non credo di essere troppe volte avanti con asso alto su due street quindi punto su due street per provare appunto a far foldare le mani che hanno le mani più debole le mani più deboli vediamo però che l'avversario qui decide di chiamare il 7 non cambia nulla lui fa una mini bet io qui chiamo giusto per vedere cosa gira in modo da prendere informazioni poi per le prossime blind war e vediamo che l'avversario qui aveva un K con un kicker anche buono e ha deciso di giocare in check call a questo punto siamo rimasti con 22 bui e dobbiamo prestare un pochino attenzione alle nostre mosse in questo caso visto che abbiamo un giocatore che sembra abbastanza tight sul bottone apro per giocare in posizione su questi giocatori che sono sì lose però sono anche deboli post flop qui il flop non ci aiuta l'avversario esce mini donk bettando e io qui decido di chiamare per provare a ad outplayarlo nelle street successive anche nel caso in cui scendano delle scary cards 6 sicuramente non lo è lui check io qui check dietro visto che non credo che puntando lo farei mai foldare 6 al river non cambia ancora nulla l'avversario value bett noi dobbiamo foldare troppa 10 qui abbiamo troppa action qui con k jack off ho open pushato per 17 bui e qui sicuramente ero un pochino tiltato e in quanto con 17 bui abbiamo ancora uno stack abbastanza decente non siamo disperati k jack off non è sicuramente una mano adatta per un push qui è molto molto lose sicuramente qui il fold sarebbe stato una scelta migliore vediamo però che veniamo ripusciati da questo giocatore che gira 4-4 e riusciamo a vingere il flip per riportarci a quasi 40 bui qui abbiamo un po' di fold abbastanza standard qui anche qui jack 2 off una mano veramente pessima per per andare a giocare una blind war fuori posizione la sodonna suited ovviamente è una è un'ottima mano apro due e mezzo per standard dalla middle position riceviamo un flat dal bottone il flop non ci aiuta provo a fare una continuation bet di poco meno di mezzo piatto per provare a prendere il piatto vediamo però che l'avversario rilancia e quindi qui dobbiamo abbandonare il colpo sotto riceviamo un walk qui con asso 3 abbiamo circa 22 bui è un po' al limite qui l'apertura faccio due e mezzo per standard in quanto quest'avversario è molto loose però penso che spesso folderà il flop ad una continuation bet il flop ovviamente è ottimo per me faccio una continuation bet di mezzo piatto perché tanto pur facendo questa size riesco a mettere dentro tutto lo stack su 3 streets nel caso in cui venisse chiamato però l'avversario appunto folda jackset non è non è una mano buona per aprire visto che abbiamo sul sul grande buio un giocatore che ha circa 14 bui quindi non potremo chiamare un push un suo eventuale push con quella mano qui di nuovo asso donna qui l'apertura invece è standard visto che asso donna è una mano che è molto forte jackset asso 10 qui c'è un race un race che è quasi 3x il piatto preflop è di quasi 3000 che rappresenta un quinto del del mio stack poiché il range di apertura dell'avversario da bottone può essere molto ampio non ho statistiche su di lui però dalle poche mani risulta un giocatore molto attivo penso che qui sicuramente pushare in restill è una mossa positiva vediamo però che l'avversario chiama perché aveva giustamente 9-9 e al river siamo fortunati a questo punto ci siamo riportati sui 50 big blind che è sicuramente un ottimo stack in questo caso abbiamo un giocatore che da UTG pusha per 10 bui qui credo che il suo range sia abbastanza largo visto che nella prossima mano sarà costretto a pagare il grande buio penso che qui con cappadonna siamo avanti al suo range qui avrei dovuto repushare ma in game ho missato lo spot visto che comunque andando ci andiamo ad isolare contro il giocatore in UTG e facciamo foldare molto spesso questo il grande buio che è anche lui abbastanza deep cappa 10 qui apro visto che il grande buio è un giocatore deep mentre lo small blind è rimasto con circa 7 8 bui quindi contro di lui sarei commettato a chiamare qui abbiamo un po' di fold qui a stone of suited avendo più di 40 bui qua decido semplicemente di foldare perché flattare non mi piace visto che giocherei fuori posizione con una mano che può essere dominata spesso mi porterei dentro nel piatto anche questo giocatore tribettando è vero che a volte lo potrei far foldare però a questi livelli ai giocatori piace flattare le tribette quindi qui credo che il fold sia la scelta migliore a sodon ovviamente apro per valore snappo sul push dell'avversario e vinciamo anche questo piatto qui a sto dieci ci hanno cambiato di tavolo a questo punto siamo in un tavolo in cui abbiamo questi tre giocatori che sono abbastanza deep questo giocatore è rimasto con dieci bui e questo qui con circa sei ovviamente quando qui apro sto dieci lo faccio per snappare un suo eventuale push e giocare in posizione su gli altri giocatori che hanno uno stack maggiore qui abbiamo sto dieci qui questo giocatore apre tre per per questo motivo decido soltanto di foldare avesse fatto una size più bassa probabilmente avrei anche potuto prendere in considerazione l'idea di flattare e di giocare in posizione contro di lui però vediamo anche dalle statistiche che ha un gap molto grosso tra il suo vpip e il suo pfr quindi non credo di giocare bene con asso 10 contro il suo range nonostante postflop giochi tutta la mano in posizione in questo caso invece abbiamo un giocatore che è più lose aggressive che fa soltanto un mini race quindi qui credo che flattare sia una buona una buona scelta lui qui esce mini dong mettando su questo flop qui anche se è un po' weak la cosa migliore è foldare direttamente su questo flop visto che non abbiamo nulla da chiedere in più a questa mano nel senso che le possibilità di migliorare la nostra mano legando qualcosa di buono sono veramente poche però io qui ho deciso di ne ho flattata una lui continua a puntare quindi qui abbandoni il colpo qui K9 off nonostante le odds decido di foldare per le flop perché K9 è una mano che potrebbe essere già dominata in partenza e inoltre c'è un gap abbastanza grosso tra le due carte e off suited quindi non ha una grossa potenzialità di stare post flop qui continuiamo a vedere un po' di mani non buone dobbiamo foldare qui 8-6 suited questo giocatore ha meno di 30 bui noi siamo quasi a 40 però nonostante questo qui non non ha senso qui andare a giocare una mano speculativa come questa visto che appunto gli stack sono troppo corti qui coppia di 4 l'avversario open push per quasi 40 bui qui ovviamente abbiamo un easy fold visto che non avrebbe senso andarsi a giocare un coin flip per uno stack così deep qui invece con 7-6 off decido di attaccare questo giocatore il flop porta un open ended quindi decido di andare in continuation bet anche per provare a prendere subito il piatto facendogli foldare quella che è la mano migliore al turn scende un asso che potrei rappresentare quindi penso che a volte potrei riuscire a fargli foldare la sua mano sparando una second barrel inoltre avendo ancora un open ended penso che se io continuo a puntare e lui chiama al river scende uno dei miei out potrei anche provare ad andare per tre strade di valore mentre se mi mettessi qui in jack probabilmente non riceverei le giuste odds da una sua eventuale bet per chiamare e inoltre perderei perderei l'aggressione e quindi nel caso al river chiudessi avrei pochissime implied odds in quanto rischierei che cercando di far cercare dietro anche lui mentre puntando sarei abbastanza face up decido quindi di sparare una second barrel lui mini mini race a questo punto noi abbiamo circa 8 out che non è detto che siano tutti puliti che ci garantirebbero all'incirca un 15 16 per cento di equiti le pot odds sono del 16 per cento però come detto essendo fuori posizione non avendo grossissime implied odds qui penso che foldare sia la scelta migliore asso 7 qui provo a rubare i bui anche qui con k10 apertura forse un pochino lusa anche da questa posizione flop ovviamente non ci aiuta quindi qui mi metto in check fold tranquillamente qui donna 10 ci danno un walk k6 suited qua con meno di 30 bui non mi va di provare ad isolarlo con una mano che non gioca benissimo qui coppia di 4 ovviamente non abbiamo le odds per andare in set mining quindi foldiamo preflop 8 7 suited con circa 26 bui qui non non è buono aprire mani speculative per quanto detto prima quindi decido semplicemente di foldare coppia di 7 ci lasciano nuovamente un walk qui coppia di 8 ovviamente apro il flop non non è bruttissimo essendoci due assi la probabilità che lui ne abbia uno sono minori nel caso in cui ci fosse un solo asse io qui decido di puntare sia per valore da eventuali progetti coppie inferiore alla mia sia per protection visto che nelle street successive potrebbero scendere le carte che non non mi piacciono fortunatamente l'avversario comunque fold intanto i bui salgono rimaniamo con circa 22 bui a questo punto non non abbiamo mani qui donna jack ovviamente non 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 possiamo giocare contro un mini race dalla otg qui 9 2 non non riceviamo un free play donna 8 easy fold 5 6 ok qui riceviamo 9 9 sicuramente una mano forte abbiamo questo giocatore che comunque abbastanza lose da early position ha un pfr del 30% apre 3x il piatto di 5 mila che è un quarto circa del nostro stack quindi a questo punto decido semplicemente di pushare e vediamo che l'avversario mette con con asso 9 addirittura e quindi riusciamo a fare un double up continuiamo a foldare queste mani coppia di 5 qui possiamo aprire visto che gli stack al tavolo sono abbastanza deep qui abbiamo un giocatore con 64 bui questo 35 questo pure 35 a parte questo giocatore che ne ha 15 e mezzo però in generale giochiamo con giocatori abbastanza deep il flop ovviamente è ottimo in quanto presento un asso che potrebbe benissimo essere nei loro range mi regala il bottom set molto dry quindi qui decido di fare una continuation bet di mezzo piatto per valore in questo modo riuscirei comunque a mettere dentro tutto lo stack in tre streets e gli avversari fold qui asso asso abbiamo questo giocatore che ha circa 30 bui che mini race quello che decido di fare è di fare una mini 3 bet visto che anche se lui chiama si viene a creare un piatto di 13 500 chip che sono in pratica lasciando in pratica l'avversario con uno stack che corrisponde a due pot size bet quindi riuscirei tranquillamente ad andare per il suo stack anche con puntate abbastanza basse come mezzo piatto però vediamo che l'avversario fold qui abbiamo una serie di fold standard 8 set riceviamo un free play abbiamo una bottom pair però su un flop del genere non non ha senso andare ad inseguire ok ancora un po' di mani brutte anche qua non questo questo momento non possiamo giocare qui invece a sto 6 prossimo stati first in avrei aperto visto che i giocatori sui bui sono abbastanza deep jack 2 k jack k jack è una buona mano per per andare in blind war il flop è molto dry pay red mi dà una top pay decido quindi di puntare per valore l'avversario chiama il 5 non cambia nulla ovviamente decido di continuare a puntare per valore però vediamo che a questa second bar l'avversario abbandona 8 set qui decido di mini raisare da bottone per giocare in posizione su questi giocatori lose che hanno anche un valore di fold continuation bet abbastanza alto e infatti per questo motivo questo giocatore ha fold to continuation bet del 70% il flop non mi aiuta quindi decido di fare una continuation bet di mezzo piatto per provare a prendere il piatto subito e così è k10 apro 225 per il flop mi regala una middle pair qui decido di cercare dietro per per sottorapresentare la mia mano visto che comunque anche questo avversario folderà spesso alle continuation bet nel caso in cui chiami vorrà dire che avrà spesso un asso o qualche progetto di colore non credo che lo faccia con un gutshot soltanto il 3 è una blank lui fa una puntata di un terzo pot ovviamente sono coerente con la linea che ho scelto al flop e chiamo soltanto lui cecca a questo punto l'unica cosa che battiamo è un 4 contro i 10 splittiamo e contro gli assi perdiamo perciò qui decido di cercare perché non credo che a questo punto un 4 chiami un progetto mancato non chiamerà nemmeno lui gira infatti k donna e non avremmo comunque preso altro valore donna 6 k6 qui apro l'avversario fold k10 c'è un push per 20 bui non possiamo chiamarlo qui k7 9 5 riceviamo un free play il flop non ci aiuta e abbandoniamo jack 9 qui non apro visto che sul grande buio abbiamo un giocatore che è rimasto con 12 bui quindi non essendo disposto a chiamare un push con jack 9 decido di foldare fosse stato lui più deep diciamo oltre i 20 bui avrei aperto con jack 9 8 6 diciamo un walk 9 2 ovviamente queste mani le dobbiamo foldare non qui con donna 4 sweet decido di aprire perché il giocatore è ritornato deep e inoltre sappiamo che lui flatta spesso preflop però è disposto ad abbandonare postflop nel caso in cui non hit qui decido di fare la continuation bet appunto perché lui folda spesso però quando chiama credo che abbia sempre un asso o un progetto a colore forte ovviamente il turn chiude il progetto quindi qui decido semplicemente di abbandonare la mano al river lui check io a questo punto con la donna ho anche un minimo di showdown value ma non credo di essere mai buono probabilmente lui qui giocherebbe in jack call un colore con il 10 con il 9 penso quindi qua decido semplicemente di cercare dietro e lui ha hit la doppia coppia questo 6 qui apro visto che i giocatori come detto sono deep flop non non bellissimo provo una continuation bet di mezzo piazza e anche questo avversario fold qui riceviamo un free play mettiamo la doppia coppia su flop molto draw quindi decido di uscire puntando due terzi piatto l'avversario flatta turn scende una carta non bella visto che a questo punto chiude il progetto a colore chiude un eventuale progetto a scala con il 7 anche se non vedo molti 7 nel suo range quindi decido di mettermi in check per valutare la sua azione lui qui check dietro quindi penso che questo spot non abbia chiuso il progetto probabilmente non era in draw il 6 non è una carta bellissima perché a questo punto perdiamo contro gli 8 contro le overpair l'unica cosa che battiamo sono delle overcard che hanno flotato lui qui decide di uscire puntando probabilmente vedendo la ora credo che il fold sia meglio qui rispetto al call anche se le odds sono del 26% qui dobbiamo essere buoni una volta su 4 per essere break even probabilmente ci sono delle overcards che flotano nel suo range marginale comunque qui invece in game io ho messo probabilmente il fold era meglio qui giro un 8 con con giro migliore ok qui abbiamo ancora una serie di di fold standard qui k6 decido di pushare diretto su questo giocatore che ha circa 6 bui ovviamente quando è così corto k6 è un push standard anche qua asso k abbiamo questo giocatore che apre per circa 10 bui asso k suited snap call però siamo sfortunati in quanto l'avversario chiude la scala al river e nuovamente ritorniamo corti con meno di 20 bui qui ovviamente abbiamo queste mani non sono buone e qui abbiamo uno spot abbastanza interessante in quanto abbiamo questo giocatore qui che decide di aprire 3 per da bottone noi abbiamo asso 6 off con circa 14 bui questo giocatore ha un pfr dal bottone del 25% io qui ho deciso di push visto che credo che il suo range possa essere largo nonostante il suo race 3 per o un po di fold equity e inoltre ho un asso come blocker e qui lui decide di foldare qui secondo me possiamo andare a vedere anche questo spot con l'equilator noi abbiamo asso 6 e all'avversario possiamo assegnare un range di call di di questo tipo diciamo a sotto più s10 k10 una cosa del genere che sono un 13% delle mani quindi grossomodo folderà un la metà delle volte folderà al nostro race e vediamo che giochiamo al 36% contro questo range prendendo la calcolatrice andiamo a vedere che il piatto preflop è di 8400 e come detto questo qui lo vinceremo un 50% delle volte che lui folderà direttamente l'altro 50% delle volte giocheremo al 36% l'opportunità di vincere 1200 di ante 1600 del grande buio e il nostro stacking quando raddoppieremo quindi 800 più 22.000 e 65 mentre 64% delle volte perderemo 22.065 seguendo i calcoli vediamo che il push ha un valore atteso di 1700 chip quindi diciamo un grande buio e quindi credo che qua il push sia ci possa stare insomma qui ovviamente continuiamo a foldare queste mani qua 17 abbiamo circa 17 bui 17 off e nel top 55 per cento delle mani grossomodo come bottom range ma credo che il push non sia sbagliato qui essendo in blind war e l'avversario fold k10 qui invece con circa 18 bui quasi decido di push diretti visto che questi giocatori sono abbastanza lose e quindi mi aspetto che molte volte flatteranno preflop non mi va di giocare comunque con k10 mentre pushando diretto genero molta fold equity contro di loro e vingo spesso il piatto uncontested asso asso invece cerco di tenerli nel piatto tenerli almeno uno nel piatto però non ci riesco qui a sotto fossi stato first in avrei aperto k6 k10 qui abbiamo un raise un call e qui noi abbiamo 20 bui un piatto preflop di 9000 che rappresentano quasi un terzo del nostro stack abbiamo questo giocatore che dalle poche statistiche da bottone ha aperto il 50% delle volte però 29 di pfr quindi credo che il suo range sia molto largo visto appunto la grandezza del piatto io qui decido di squisare in push e vengo però chiamato sono fortunato nel vincere l'ennesimo coin flip risalgo a questo punto sui 35 bui credo che a questo punto del torneo ero un pochino sopra average qui abbiamo un po' di fold 8 8 qui c'è un raise 4 per dal bottone che non ha molto senso questo giocatore flatta sono entrambi abbastanza deep nuovamente il piatto preflop è di 19.500 che rappresenta grosso modo un terzo del mio stack 8 8 è una mano che ha anche più equity si è chiamata di k10 quindi qua lo squeeze è la scelta più semplice e vingo il più alto k6 qui abbiamo invece questo giocatore adesso decide di limpar se fossi stato first in avrei open push sul big blind che è soltanto 13 big blind deep e invece qui decido di questo punto dopo il suo limite giro di foldare 6 3 qui è una mano pessima non vado ad aprirla 5 2 ovviamente non possiamo pushare la bottom 10 per cento qui a questo punto siamo un pochino card card dead dobbiamo semplicemente cliccare il tasto fold questo punto asso cap apro 225 per standard ovviamente disposto a chiamare il suo push ma foldano tutti 6 6 ma non mi infilo qui coppia di 2 abbiamo questo giocatore che è limpa a questo punto le alternative che mi si presentavano erano 2 o completare e giocare in pratica per set odds però darei all'avversario l'opportunità qui di di pushare e a quel punto se lui foldasse non riceverei odds molto vantaggiosa oppure l'alternativa era quella di rilanciare visto che il suo limp da bottone mostra debolezza seppure decidesse di di flattare penso che su multi flop folderà alla mia continuation bet quindi qui apro faccio un 4x e riesco a prendere il piatto direttamente pre flop qui coppia di 9 ovviamente apro per valore il flop è molto dry si presta bene ad una continuation bet faccio mezzo piatto e l'avversario fold coppia di 10 apro dalla utg e foldano tutti c3 un fold donna 9 qui K9 su it ovviamente non non è una buona mano per aprire da quella posizione adesso 9 su it qui ovviamente è una buona mano per intraprendere una blind war flop non ci permette di migliorare provo comunque a fare una continuation bet visto che c'è un K però l'avversario non fold quindi a questo punto qui decido semplicemente di mettermi in check fold asso 6 qui questo giocatore mi anticipa altrimenti avrei aperto io ok qui ovviamente jack 6 non ha senso flattare coppia di 5 qui dovremmo mettere 6.000 chip per vincerne poi post flop 72.000 circa quindi abbiamo un rapporto di 12 a 1 grossomodo non abbiamo quindi odds vantaggiose per giocare in set mining e quindi decido di foldare coppia di 9 qui c'è un race 4 per dalla UTG a questo punto data anche la mia mano considerando che ho meno di 30 bui qua decido semplicemente di pushare diretto e vediamo che l'avversario chiama gira 6.6 e quindi quindi raddoppiamo qui abbiamo un'apertura da UTG una mini tribet questo punto qui con kk decido ovviamente di forbettare una size non troppo grossa per indurre uno dei due a pushare preflop vediamo però che l'avversario decide soltanto di flattare il piatto a questo punto è metà del mio stack però al flop scende l'asso che è la carta che non vorrei vedere l'avversario jack qui a questo punto decido di cercare dietro per rivalutare in base alla sua azione lui continua a cercare il 7 non cambia nulla io qui decido di continuare a cercare dietro il 3 è una nuova blank lui decide di cercare per la terza volta io qui a questo punto credo che nel suo range ci siano mani come 10 10 jack jack donna donna credo che un asso avrebbe sicuramente puntato su una street ovviamente potrebbe anche esserci l'altra combo di kk ma penso che sarebbe andato rotto con kk preflop quindi prova ad ottenere valore dalle coppie inferiori alla mia perciò esco puntando un terzo piatto l'avversario chiama e vediamo che gira proprio jack jack a questo punto direi che possiamo interrompere questo video qui spero che vi sia piaciuto per ogni feedback domanda e commento aprirò un thread apposito sul forum ciao a tutti